Direzione Gardaland Iniziamo la giornata Sveglia alle 6 del mattino E arriveremo tra qualche ora A presto Quante ore di macchine abbiamo fatto? Benvenuti a Gardaland Siamo qui per divertirci Ragazzi allora la prima attrazione qual è? Io quello potevo assolutamente fare Io voglio rimanere qua per sempre Vamos a Blue Tornado Allora Una custodia apposita Mi è ruzzolata per terra E la lente si è completamente straccellata Quindi ora non mette più a fuoco Non si vede più niente Dalla telecamera Completamente inutilizzabile Dove stiamo andando? Abbiamo giunto E' la volta buona che ci bagniamo Giusto? Benvenuti ad Atlantico Il regno perduto Dicci qualcosa a favore di telecamera? 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 Roar! Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!